ottava edizione del sette colli grandissimo premio capitolino che viene dato ogni anno organizzato da il grandissimo fabrizio pacifici ed ecco qui per fair play la bravissima demetra hampton demetra hampton finalmente ha fatto bene ecco raccontaci hai dato il tuo contributo dici io sono laziale io sono qua per laziale però amo e la roma ama la roma ecco scu ma ama la lazio ama tutti i calciatori tutti i colori per questo sono vestito in nero però sotto c'è bianco in celeste perciò facciamo un fair play roma e lazio e vogliamo che lo sport sia per tutti quanti di qualunque colore in assoluto però bianco celeste numero uno noi mi chiamare mai più debbra temetra ti ringrazio per il tuo contributo e per aver partecipato a questa festa bellissima che troviamo direttamente adesso vediamo fabrizio pacifici che troviamo qui accanto eccolo ecco qua scupe bello della diretta di roma di roma e dintorni grazie temetra è sempre molto buono io direi che la serata è andata stra benissimo in mente di perfettionalità lui è proprio super professionale professionale è è bello che che devo dire è bello essere un grande professionista che un bell'uomo però se secondo te sono anche un bell'uomo è meglio così lui è un super professionale lui è superman di roma e questo lo possiamo confermare infatti chi conosce fabrizio ne rimane incantato e tutti i suoi eventi sono sempre contenti tutti quanti di quello che le cose più belle che io sono le ocche di ghiaccio e le fumo e lui c'è occhi marone e c'è fabrizio pacifici numero uno di eventi di roma number one perciò diciamo due parole su per concludere questa intervista di questo bellissima ottava edizione che ha visto tantissimi campioni e abbiamo visto anche il dottor alicicco no veramente è stato stato un evento riusciutissimo poi ha visto in segno di perplay noi abbiamo dato anche un riconoscimento a demetra che è una tifosa doc a poche ore dal derby speriamo che può porti bene tutto questo ovviamente per la roma ebbene sì due parole sì secondo me lui mi prende per sedere sa che lui è il rominista io sono laziale però c'è comunque vediamo è la sfida da derby vedremo cosa succederà vinca il migliore intanto un saluto a tutti quanti da fabrizio pacifici e gemma tra ampton i derby la roma puoi vincere però la lazio con questi occhi di ghiaccio vince sempre vedremo un saluto a tutti quanti e forza roma grazie forza roma ciao a tutti